Ciao carissimi, buongiorno, sono rientrato dopo un mese di assenza, ero all'estero mi vedete anche un po' abbronzato, fortunatamente perché si stava davvero bene anche chiaramente con la chitarra vediamo questa intro di un brano molto importante di Hingway Malmsteen che comunque, diciamo così, è utile per la memorizzazione, le forme e l'utilizzo degli arpeggi che la settimana prossima poi vedremo vediamo un attimino allora, come hai visto e sentito, il brano gira intorno ai 122-123 bpm caricherò la base sul mio blog, cliccando qui alla velocità originale che ho fatto e anche alla metà, per cui anche molto più lento per chi ne ha chiaramente la necessità di memorizzarlo e di eseguirlo allora, ti faccio vedere un attimino la parte, molto lentamente, che ho suonato e poi vediamo un attimino una cosa relativa proprio a due forme fondamentali degli arpeggi allora, vediamo grazie a tutti ho suonato chiaramente mancano proprio pochissime note, ma era quello che ho voluto eseguire relativa agli arpeggi, le forme delle triadi e semplicemente ha lo spostamento lungo l'asse del manico delle scale allora, vediamo molto lentamente, per cui la parte che noi abbiamo suonato inizialmente, che è l'arpeggio dell'accordo di La minore fondamentalmente noi andiamo a vedere semplicemente la triade cioè ovvero, questa è la nostra triade in questa posizione la nostra triade in questa posizione è la seguente osserva un attimo la mano destra giù, su, giù, 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 su vedete che ho fatto una sorta di slide con la pennata giù su, 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 giù, su, giù questo ci consente di avere una sorta di loop dello spostamento della mano sinistra lungo l'altra parte delle triadi che non sono nient'altro che vedi triade minore chiaramente, triade minore triade minore e si ricollega a questa parte per cui sono i rivolti fondamentalmente delle triadi che abbiamo già visto maggiori, minori, diminuite, aumentate allora, lo rifaccio un attimo lentamente senza fermarmi questa è la forma della triade dell'arpeggio, perdonami partendo dalla corda del La sarà chiaramente così ok? è ovvio che questa cosa che vedremo settimana prossima che ti ho detto verrà utilizzata in tantissime forme e in tantissimi contesti ho ritenuto piuttosto utile appunto vedere questo esempio su un brano di Ingrid Malmsteen che chiaramente partendo dagli anni 80 ha fatto, diciamo così, un po' la storia e lo stile di questo modo di suonare gli arpeggi vediamola adesso invece sempre l'esecuzione molto lentamente cliccando sempre qua ti ricordo di scaricare la backing track ti chiedo sempre di mettere un mi piace se ritieni opportuno e utile per te anche se non sei un new student in diretto e lo vuoi diventare per cui vediamo un attimino l'esecuzione lenta e lo vuoi diventare bene come vedi l'ho eseguito molto bene molto molto lentamente cliccando sempre qua ti ricordo vai a scaricare la parte così lenta come l'ho fatta e ci vediamo settimana prossima per vedere determinate cose degli arpeggi e improvvisazione grazie allo studio e l'assimilazione di determinate frasi cosa che ripeto spesso ok? settimana prossima ciao